Dove sono finiti i tempi in cui bastavano le indicazioni del presidente Berlusconi, riferite dai coordinatori di turno, ed era già profumo di vittoria, sottolineato da Inning, discorsi e progetti di cambiamento. Di quel centro-destra, o meglio di quello spirito ottimista e vincente che fin dall'inizio caratterizzato Forza Italia, sembra sia rimasto davvero poco. Divergenze e divisioni sono emerse in un'atmosfera accesa, in qualche momento persino infuocata, all'incontro-scontro che si è tenuto a lanciare al Parco Piscina e Le Gemelle. A raccolta sono stati chiamati iscritti e simpatizzanti, un incontro allargato a tutto il centro-destra, per ripartire, per ricominciare, è stato detto all'inizio dal coordinatore provinciale forzista Daniele Damario, che pur riconoscendo le tensioni e i problemi che da un po' abitano nel partito e in tutta la coalizione, ha rivolto l'invito all'unità, a mettere da parte i personalismi. I prossimi appuntamenti elettorali sono troppo importanti e dunque l'obiettivo è ritrovare l'intesa, percorso che appare piuttosto difficile, impresa quasi ardua. Nessun lancianese al tavolo dei lavori e questa, per le persone che hanno accolto l'invito, forse è stata la prima sorpresa, non proprio gradita. C'erano Damario, il consigliere regionale ed ex assessore Paolo Gatti, l'onorevole Fabrizio Di Stefano, il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano, il capogruppo alla regione Mauro Febbo eppure il senatore Antonio Razzi, più a suo agio nei talk show che nelle riunioni politiche. Dagli interventi che si sono succeduti è emersa la volontà a partecipare, a contare, a non accettare scelte imposte dall'alto. La base a Lanciano, nella prossima sfida per le comunali del 2016, vuole dire la sua. Questo è stato il comune denominatore. L'ex sindaco Nicola Fosco si è detto anche per le primarie, senza mezzi termini, ha ribadito che bisogna partecipare per vincere. Sull'importanza della partecipazione si è fatto sentire Marcello Basili, coordinatore di Polis Frentana. C'è chi ha chiesto quali saranno i criteri che porteranno all'individuazione di un candidato sindaco. Le primarie, si sa, non sono mai piaciute al popolo di centrodestra, ma non è detto che stavolta non rappresentino il mezzo per una selezione. È necessario fare sintesi, è stato più volte ripetuto, e se l'ex consigliere regionale Emilio Nasuti ha cercato di riportare la discussione a toni più pacati, ricordando che l'avversario da battere è il centro-sinistra e che benvengano scontri e lamentele, ma poi, come ha detto pure Gatti, bisogna costruire, Di Stefano ha affermato che la scelta sarà espressa dal territorio, riconoscendo alla base un ruolo fondamentale. Nessun intervento da parte dei consiglieri comunali presenti, Maglio D'Ortona, Graziella Di Campi, Tonia Paolucci, che intende andare avanti con la sua candidatura, Ermando Bozza e Eugenio Dovidio. In silenzio anche i consiglieri dell'Udc, Paolo Bomba e Enrico D'Amico. E nessun commento, nemmeno da parte di altri volte nominotico, Verosanna Raimondi, candidato con il nuovo centro-destra alle scorse regionali, Orazio Martelli, Luciano Fratangelo, nessuna parola, neanche da Luciana Di Castelnuovo, portabandiera di Forza Italia. Ma è certo che questi silenzi, sicuramente strategici, saranno rotti nei prossimi giorni. Ci saranno altri incontri in altre città e chissà se la formula sarà la stessa. Forse no.